Parliamo del porto di Laccameno e spesso finisce sotto accusa il gestore del porto però va anche detto che quella gestione nasce proprio con te sindaco, Carmine Monte. Ma guarda, io questa faccenda lo ci viscerò già in tantissime occasioni. In realtà noi ci troviamo nel 2013, nell'estate 2013, a dover fronteggiare la gestione del porto senza la possibilità di usufruire dei servizi della Marina di Pitecuso, che era una società partecipata dell'EN perché in liquidazione con accertamento da parte della Corte dei Coni. In quell'occasione fu esperito un bando per un affidamento per quattro mesi e si presentò una società che si chiamava Nautica Mare SRL che già aveva una parte dell'approdo in gestione. Questa società nel momento in cui risultò poi aggiudicataria di questi quattro mesi fece un'ATI con un'altra società. A fronte di questa situazione noi immediatamente constatammo le cose, diffidammo quest'ATI ad operare e avviamo il procedimento per la revoca alla Nautica Mare SRL della concessione. L'ATI con chi era? L'ATI era con una società che faceva capo a Giuseppe Perrilla. Praticamente il TAR diede la sospensiva e diede la possibilità a quest'ATI di continuare. Poi c'è stata tutta una serie di azioni legali nei confronti dell'ATI per il recupero dei canoni fino ad arrivare a una transazione per l'anno 2014 che sanciva la fine della concessione, sanciva un tot da pagare che era ben oltre quello che è stato previsto da quest'attuale project financing e che poi naturalmente lasciava liberi gli approdi per un bando europeo che noi avevamo già deliberato in sede di Consiglio Comunale. La nostra delibera di Consiglio Comunale non è stata revocata. All'improvviso nel 2015 con questa amministrazione, cioè con l'amministrazione di Giacomo Pascale è comparso un project financing presentato dalla ditta che faceva capo a Peppe Perrilla e questo project financing è stato preso per oro colato, non portato in Consiglio Comunale e mandato avanti da quest'attuale amministrazione. Cosa che noi abbiamo sempre detto e la cosa ancora più strana è che sempre questa amministrazione ha addirittura abolito tutti i posti per i residenti storici della comunità di Laccamino all'interno degli approdi, una cosa che secondo me non si è verificata mai in nessun comune al mondo, cioè non tenere conto dei cittadini che per anni hanno praticamente avuto la possibilità di poter ormeggiare a dei prezzi diversi nel porto della propria comunità che poi tra l'altro è stato realizzato con dei mutui e quindi con i soldi degli stessi cittadini perché con la cassa depositi e prestiti. Quanto riguarda mentre l'onere pagato è sempre lo stesso rispetto a quello che pagavano con te? No, assolutamente. Allora, quando ho fatto il sindaco io c'erano ben tre società che avevano bene o male la titolarità all'interno degli approdi. Queste tre società che erano la nautica di Luise, che era la nautica mare, e poi c'era questa società in Ati che faceva capo a Perrilla, praticamente l'intero importo era sui 650.000 euro, perché poi tra l'altro c'era una parte dei residenti che pagavano direttamente al comune. Adesso invece si parla, almeno da quello che è il project financing, di 160.000 euro all'anno più una quota lavori. Il project financing è poi tra l'altro un po' un eterno incompiuto perché a fronte di quelle procedure che hanno espletato, noi poi abbiamo visto che ci sono stati dei cittadini che si sono opposti a degli articoli 700 per la rimozione delle proprie imbarcazioni che hanno avuto ragione, proprio perché i giudici non hanno ritenuto la titolarità di tale società. Quindi che vuol dire? Che allo Stato il comune che ha perseguito un iter in realtà non l'ha neanche ancora concluso perché non c'è ancora contratto, non c'è nulla.